Qualche mese fa il sindaco di Cicerale, Gerardo Antelmo, durante un'intervista rilasciata all'emittente di Cilento Channel, annunciò un progetto importante per il paese e per tutto il Cilento, un museo all'aria aperta, il ricordo del pittore impressionista Edgar Degas. Quest'ultimo sembra aver realizzato gran parte delle sue opere a Cicerale, dove ha trascorso diversi anni della sua vita. Il primo cittadino in questi giorni è ritornato a parlare dell'iniziativa in maniera concreta, tre importanti artisti bulgari da quattro settimane sono in paese, ha affermato Antelmo sul suo profilo Facebook, per realizzare altrettante opere per il nascente museo all'aria aperta. Ha affermato Antelmo sul suo profilo Facebook per realizzare altrettante opere per il nascente museo all'aria aperta dell'arte contemporanea Edgar Degas. Gli artisti, ha precisato il sindaco, hanno raggiunto il borgo cilentano dopo aver effettuato un doppio tampone molecolare negativo e si sono ben integrati in paese. Nelle prossime settimane Cicerale ospiterà anche altri artisti provenienti dall'Argentina, Spagna, Danimarca, Francia, USA, Vietnam, Russia, Svezia, Germania, una sorta di nuovo grand tour del XXI secolo, l'ha definito il primo cittadino. Nel museo inoltre saranno presenti opere selezionate dalle cattedre di pittura e scultura dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Cicerale, ha aggiunto Antelmo, nei prossimi anni accoglierà gli artisti da tutto il mondo. Sarà la loro casa identitaria. Franklin Delano Roslett in USA nel 1935 creò il FAP, Federal Arts Project, per superare la crisi economica. Nacquero così i grandi musei americani. Noi, in piccolo, ha concluso, puntiamo sulla cultura e sull'arte per superare la crisi del Covid-19. Scriviamo il futuro e l'augurio del sindaco di Cicerale e la nostra speranza che la cultura possa renderci liberi, soprattutto in un momento difficile per tutto il paese.